Abruzzo, maglia nera d'Italia per i prestiti e le imprese all'artigianato. A settembre 2015 si è registrato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente una flessione dello stock dei prestiti pari al 8,1% dato inferiore alla media nazionale che è del meno 4,7% e che colloca la regione all'ultimo posto della graduatoria nazionale. E quanto emerge da un approfondimento che Confartigianato Abruzzo ha condotto su un'elaborazione del centro studi della Confederazione Nazionale. A livello provinciale il calo più consistente si registra nel Terramano meno 11,4%, seguono la provincia dell'Aquila meno 8,9%, quella di Pescara meno 8,2% e quella di Chieti meno 7,7%. Per quanto riguarda le sofferenze bancarie nel Chietino sono pari a 1.252 milioni di euro, nel Terramano 1.135 milioni, nel Pescarese 782 milioni e nell'Aquilano 502. L'Abruzzo infine è tra le otto regioni che fanno registrare i tassi attivi effettivi sui finanziamenti più alti. La situazione drammatica e lo diciamo da tempo, afferma il direttore regionale di Confartigianato Daniele Giangiulli. Questi dati ne sono l'ennesima conferma e diventano ancora più significativi se si considera che i valori sono in peggioramento per il quinto trimestre consecutivo. Non si può più tergiversare arrivato il momento di dare delle risposte e la regione non può più sottrarsi al confronto.